Ciao a tutti ragazzi, sono stato 24 ore senza caricare video perché quello di ieri era abbastanza lungo e volevo darvi il tempo di assimilare un po' tutti i concetti e non lo avessi mai fatto perché una volta che mi fermo, una volta che decido di non fare il doppio contenuto, BAM! Sono stati veramente sommersi dalle notizie, ma dato che non mi piace semplicemente riportare le notizie a Pappagallo nell'ultima parte del video faremo un ragionamento tutti insieme che ci porterà a capire una cosa molto importante lato Juventus perché mi sono fatto una domanda, com'è possibile che il campionato debba ancora finire e che la Juve abbia praticamente chiuso almeno due trattative? E quindi facciamo un super mega recap perché l'ufficialità di Bernardeschi che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle 18.30 e quindi salutiamo un altro giocatore che non sarà presente nella rosa della Juve l'anno prossimo che è stato con noi tanti anni e che personalmente, qua opinione personale, sbaglierò, però io all'epoca ero veramente innamorato di Bernardeschi ero veramente contentissimo dell'acquisto di Bernardeschi quello che invece mi lascia il percorso, la carriera bianconera di Bernardeschi è un senso di vuoto incredibile perché io sono veramente convinto che Bernardeschi sarebbe potuto diventare tutt'altra cosa non siamo stati bravi noi probabilmente a metterlo nelle condizioni migliori, non è stato bravo lui forse non era nemmeno pronto lui per un salto simile alla Juventus e secondo me si è perso qualcosa, anche l'atto nazionale italiano sono dell'idea che Bernardeschi potesse diventare davvero molto di più di quello che ci ha fatto vedere e spero per lui davvero che possa ritrovare almeno quello sgombro mentale importantissimo per concludere al meglio la sua carriera, per fare la parte più importante, quella in cui non puoi sbagliare perché poi sennò ti avvii verso la fine quindi in bocca al lupo Fede grazie di tutto, l'unica cosa che posso dire davvero del ragazzo professionista serio esemplare che non ha mai rotto le balle e penso che abbia masticato Amaro anche tante volte ci ha dimostrato quell'intervista l'anno scorso con la maglia dell'Italia dopo San Marino dicendo che lì poteva rischiare la giocata cosa che alla Juventus non gli era permesso a fare, frase che ha dato fastidio a tutti i tifosi della Juventus ma che nascondevano anche un retrogusto amarognolo e cioè io sono alla Juve, sono contento di essere alla Juve però probabilmente qui non riesco a esprimermi al meglio, quello suo pensiero va rispettato e quindi vedremo dove concluderà, dove inizierà una nuova parte di carriera, dove inizierà la prossima stagione questa è un'ufficialità, praticamente ufficiale, 99% quasi ufficiale però tutti gli organi di informazione hanno riportato questa notizia quindi sostanzialmente quando accade questo significa che è vero poi iniziamo ad entrare nel dettaglio invece perché ieri sera il mio Twitter è impazzito per colpa di Nicolo Schira non so se lo conoscete, è un giornalista molto seguito, più di 200.000 follower su Twitter e ieri sera ha dato diverse notizie che si intrecciano lato Juve partiamo da quella di Dybala perché secondo Nicolò Paolo Dybala avrebbe davvero scelto l'Inter e sarebbero quasi dettaglianti, cerco di leggervi esattamente il tweet e ve lo lascio qui sopra in sovraimpressione cercherò di tradurvelo perché è in inglese, il mio inglese è terrificante Paolo Dybala molto probabilmente firmerà con l'Inter come parametro zero e è atteso un nuovo incontro tra Organtun e Marotta all'inizio della prossima settimana per chiudere l'accordo pronto un contratto di tre anni a 7 milioni all'anno con opzione per il quarto quindi questo dovrebbe essere il futuro di Dybala ora vedremo se sarà effettivamente così io fino all'ultimo mi auguro di no però potrebbe veramente essere così e ancora Alvaro Morata perché Paolo Dybala sapevamo, meno male che sarebbe andato via dalla Juve che avrebbe lasciato lui, quello lo sapevamo su Morata c'è sempre stato il dubbio e Nicolò ancora dice l'Atletico Madrid non vorrebbe dare uno sconto alla Juventus per il prezzo dell'opzione di Alvaro Morata quindi 35 milioni hanno smesso di parlare proprio adesso quindi lo spagnolo, l'attaccante spagnolo tornerà ai Colchoneros e potrebbe comunque lasciare Madrid in questa finestra di mercato estivo poiché è comunque, aggiungo io, fuori dai programmi, dai piani tattici del Ciolo Simeone quindi comunque Morata ad oggi tornerà a Madrid non verrà riscattato dalla Juve 35 milioni e poi vedremo dove andrà perché dovranno comunque trovargli una nuova sistemazione mi dispiace tanto mi dispiace veramente tanto perché Alvaro Morata è davvero il simbolo del ragazzo che ci crede, ci mette la faccia fino all'ultimo secondo disposto a mettersi in sacrificio anche per la squadra e è difficile vedere oggi giocatori di questo tipo io sono sempre stato un fan di Alvaro Morata ma da persona che ha sempre apprezzato l'attaccante spagnolo non avrei mai speso altri 35 milioni di euro dopo i 20 di prestito dove eravamo quasi costretti a prendere Alvaro in prestito perché eravamo in una situazione economica molto delicata e tra pandemia e stipendio aggressivo di Cristiano Ronaldo non riuscivamo a permetterci un altro tipo di attaccante infatti si era cercato su Arezzo a parametro zero insomma avevamo un po' di difficoltà penso che sia stata una buona operazione per due anni siamo stati anche vicinissimi all'addio di Morata proprio questo inverno Alvaro sarebbe comunque rimasto alla Juventus perché lui la Juventus la ama è innamoratissimo della Juve mi dispiace non averlo salutato nel migliore dei modi davvero allo stadio un'altra sera probabilmente lui sapeva infatti l'avevamo immaginato un po' tutti vedendo le immagini lo saluteremo a Firenze perché molto probabilmente lui a differenza di Di Bala che non sarà a Firenze per giocare l'ultima partita lui ci sarà e quindi cercheremo di rendergli omaggio e di salutare al migliore dei modi perché Alvaro Morata tanti lo sottovalutano ma è stato un giocatore importantissimo per la Juve e infine Angel Di Maria e Paul Pogba sono alle fasi finali come free agent come parametro zero sono ai dettagli con la Juventus tutti e due wow wow e se ci aggiungiamo che ieri Giovanni Albanese a un certo punto ha detto dopo il non rinnovo di Bernardeschi ora Perisic è molto più che un'idea della serie ora che non è stato rinnovato Bernardeschi la Juventus potrebbe provarci seriamente per Perisic il mio cervello davvero non sa che pesci pigliare perché ribadisco siamo al 20 di maggio cioè è il 20 di maggio non so se chi ha il 20 di maggio e la Juventus vabbè salutato Chiellini Di Vala Berardeschi saluterà Morata molto probabilmente ne usciranno altri abbiamo preso quasi quasi preso siamo ai dettagli Pogba di Maria stiamo ragionando molto attentamente su Perisic cioè io non ho ricordi di una Juve che si mette così tanto avanti nel mercato già da maggio a stagione avviata e le risposte che mi sono dato sono due una stiamo facendo così tante operazioni adesso perché la Juventus subirà una vera e propria rivoluzione vi avete presente quando prendete un calzino e lo girate e andremo in quella direzione lì la Juventus verrà rivoltata come un calzino e verrà creata una squadra nuova con 7-8 pardenze e 7-8 acquisti e mi sembra francamente difficile ma a questo punto non lo escludo perché ripeto Di Bala Chiellini Morata Bernardeschi io aggiungo Arthur forse anche Rabiot forse anche Ken immagino Alexandro sono altri 4 e rischio davvero di vedere altri 4 in uscita poi vediamo potrebbero essercene anche degli altri stesso McKennie ieri si è mormorato anche di McKennie in uscita per monetizzare si parla spesso di Luca Pellegrini che non è sicuro di rimanere la Juve ce ne sono tanti c'è Moise Ken che non sappiamo che cosa farà però io non penso che la Juventus possa cedere 10 giocatori 10 sarebbe qualcosa di assurdo e ricordiamoci che davvero Di Bala Morata Bernardeschi vuol dire che 3 sicuro davanti li devi sostituire e quindi la Juventus si sta mettendo avanti perché dovrà fare un mercato molto molto corposo dall'altra parte invece mi do mi do un'altra risposta e penso a quella che è stata la Juventus di quest'anno una Juventus che ha speso tutta l'estate in una singola trattativa legata a Manuel Locatelli per far arrivare poi arrivato con successo ai nostri con le nostre pretese economiche di contratto due anni di prestito va bene siamo riusciti a portarlo a casa al prezzo circa che volevamo con l'opzione che volevamo quindi ci sta però il punto è che tu hai dedicato tutta l'estate a quella trattativa lì e quando ti sei ritrovato nell'emergenza Ronaldo non avevi nemmeno la possibilità di intervenire perché la squadra era praticamente la squadra dell'anno scorso a cui toglievi il pezzo pregiato molti si dimenticano di questa cosa qua ragazzi molti la fanno passare come una scusa ma non è mica una scusa perdere Ronaldo gli ultimi giorni di mercato e avere praticamente la stessa rosa che aveva l'anno scorso Pirlo con cui è arrivato quarto anche Pirlo perché è ovvio io qualche volta qualche settimana fa prima la finale di Supercoppa dicevo la stagione di Pirlo e quella di Allegri bene o male sono la stessa stagione perché mi ha dato le stesse sensazioni poi perdendo anche la finale di Coppa Italia ragazzi è ovvio che la stagione di Pirlo sia stata più positiva rispetto a quella di Allegri cioè qua c'è poco da dire è banale ha vinto due finali Pirlo ha perso i finali Allegri è logico però vi ribadisco che si è da troppo per scontato quello che è stato il momento in cui Cristiano Ronaldo ha abbandonato la Juventus agli ultimi giorni di mercato e si è da troppo per scontato anche la rimonta che si è fatta perché a dicembre io me lo ricordo io me lo ricordo benissimo mi ricordo davvero tutti i commenti a dicembre che mi davano del pazzo quando dicevo che secondo me comunque una piccola possibilità che sentivo da dentro arrivare in Champions c'era e nessuno credeva nemmeno ad arrivare in Champions poi se ora oggi ce lo siamo scordati se ce lo siamo dimenticati se facciamo finta di dimenticarcelo perché è un conto però c'è stato e la Juve credo che non voglia rifare quell'errore lì di arrivare a fine mercato con l'acqua al collo perché se succede qualcosa oddio cosa faccio allora la Juve sta iniziando a cercare di fare una squadra che non dipenda da un solo giocatore che non sia strettamente vincolata a Tizio Caio o Sempronio ma con tanti giocatori di medio o alto livello in modo che se poi uno all'ultimo momento decide di andare via siamo comunque abbastanza bilanciati e magari possiamo sostituirlo o gli ultimi giorni del mercato o addirittura attingendo dalla nostra primavera dalla nostra Under 23 aggiungo che quest'anno il calcio mercato chiuderà il primo di settembre il campionato inizierà il 14 d'agosto quindi vuol dire che almeno tre giornate di campionato verranno giocate a mercato aperto e quindi significa che bisogna completare molto prima le rose e quindi la Juve si sta muovendo poi è ovvio che stiamo parlando di parametri zero e quindi bisogna aggredire il mercato ma la Juventus sta veramente aggredendo il mercato sta facendo una cosa che tante volte negli ultimi anni gli ho criticato in maniera aspra perché vedevo una Juventus in balia del mercato vedevo la Juventus che succedevano delle cose e allora lei si muoveva di conseguenza no adesso no sto vedendo una Juventus che non rinnova Di Bala non rinnova Bernardeschi non riscatta Morata ma non perché Di Bala non vuole rinnovare perché Bernardeschi non vuole rinnovare perché Morata non vuole rimanere sono scelte sono scelte condivisibili o meno queste sono opinioni soggettive ma sono scelte della Juventus finalmente scelte della Juve che significa questo giocatore non investo su questo giocatore perché posso investire su quell'altro posso provare a puntare su quello posso scegliere quella tipologia di calciatore e per tanti questa è una cosa che viene sottovalutata ma è una cosa importantissima perché finalmente per una volta mi pare di vedere che sul mercato la Juventus ha le idee chiare e soprattutto che ha del budget da spendere perché anche l'anno scorso l'idea era chiara ma era solo Locatelli perché non c'erano soldi ragazzi non so se vi ricordate quando abbiamo visto anche solo l'All or Nothing della Juventus di Pirlo quando c'era la trattativa in estate con Paratici che continuavano a dirsi serve un attaccante che è boh un attaccante con delle caratterie un centroavanti uno che si muove mancavano 10-15 giorni alla fine del mercato non avevano ancora scelto la punta e poi è venuto fuori Morata così dal niente perché erano tutt'altre le caratteristiche era Suarez era Geco poi hanno detto vabbè Morata che è l'unico che riusciamo a prendere e non si fa così lì eravamo in balia del mercato qua stiamo cercando di aggredire il mercato e sono due cose completamente diverse e questo mi fa estremamente piacere poi che funzioni che non funzioni quello ce l'ha il campo però se l'Aventus ha queste riflessioni forse qualcosina sta cambiando rispetto agli ultimissimi anni forse dico forse ci vediamo oggi pomeriggio per un altro video